Qui siamo nella barriera di Lido-San Nicolò ad una profondità di 19 metri sotto il livello del mare Questo qua è il tunnel galleria principale Questo tunnel ha una lunghezza di 400 metri e al di sopra del tunnel sono alloggiate 20 paratoie da 20 metri ognuna Le paratoie poi sono collegate al tunnel formato dai cassoni in cemento armato da due cerniere ognuna Il sistema MOSI è un sistema di barriere collocate alle tre bocche di porto Le barriere appunto sono sempre adagiate sul fondale del mare Quando è previsto un evento di acqua alta eccezionale e per eccezionale intendiamo sopra il metro, il metro e dieci perché da quel punto in poi si comincia ad allagare il centro storico di Venezia e degli altri abitati lagunali Quindi in occasione di un'acqua alta eccezionale le barriere vengono riempite di aria compressa Quest'aria compressa spiazza l'acqua e le barriere essendo incernierate ed essendo appunto delle scatole metalliche per spinta di galleggiamento si sollevano e creano una diga flottante Queste collegano le paratoie alle strutture in calcestruzzo che sono le fondazioni e attraverso le cerniere ci sono tutti gli impianti di aria compressa e di acqua di flussaggio che permettono la movimentazione delle paratoie E' bene che ci sia sempre un presidio Sostanzialmente durante il sollevamento diciamo per ogni barriera vengono impegnate diciamo 15 persone che sono divise sostanzialmente in tre gruppi Un gruppo che sta nella centrale di controllo quindi dai computer manovra e controlla tutto quanto poi c'è un gruppo che sta qua sotto in galleria quindi si occupa di controllare sul posto diciamo che tutte le apparecchiature funzionino correttamente e un altro gruppo che invece sta in superficie dove ci sono sostanzialmente i compressori Tra le operazioni preparatorie e quelle di sollevamento vero e proprio nel giro di due ore diciamo le paratoie vengono sollevate Grazie a tutti Grazie a tutti